Assistenza sanitaria, coronavirus, buonasera. Buonasera, dottor. Sono Rocco Doria in San Giovanni in Fiore. Scusatemi per l'orario. No, no, prego, 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 signor Doria, dica, dica. Però stiamo arrivando in una situazione che si può dire qua. Ma di che cosa, signor Doria, di che cosa? Questo benedetto coronavirus. Ho capito, ma io che c'entro? No, no, io ho chiamato a voi perché qua il presidente ha accettato un'altra volta la cosa. L'ha avuto certificazione oggi. E che posso fare? Che posso fare? Voi mettetevi nei miei panni. Io che posso fare? Un che posso fare? Allora che c'è stato a fare voi, dottor. Ma io non c'entro con l'autocertificazione, signor Doria. Io c'entro con la... No, 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 aspetta un momento, dottor. Voi mi avete risposto a mia assistenza a coronavixi. E uno che si occupa di coronavixi si occupa di tutto. Io non ce la posso stare, dottor. Io non ero in carta alla visione, dottor. Perché questo è per cancellare le cose da un momento annatto. Non ce la faccio più io. Ma io... Dottor, c'è svegli. Sì, sì, signor. Io sto qui. In caso serve di mandare l'ambulanza col biocontenimento. Serve di fare il stampone. No, 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 no. Ognuna di cose sai cosa vuole. Ha capito che è la situazione. Ma ci avrà le sue... Chi se le ho fatto? Non ho capito, dici. Ci avrà le sue motivazioni, Giuseppe Conte, il presidente, se ha cambiato l'autocertificazione? E ora ci avrà le sue motivazioni. E ora che io, che l'avevo fatto ieri, non avevo stampato lui cento copie, che mi rinforzano gli soldi a mio. Lui cento copie non avevo stampato io. Ma perché non avevate stampato duecento copie? Perché? E per dire ogni volta ne fare una, così si muoverà il segno. E non aveva stampato io. Ha visto caso cosa? Perché un feniciacciore? Su coronavirus, le teste, un po' lui cento. Non si rimane, non mi rinforzano. Ma perché va? Non lo rinforzano, ma basta sperare la maniera. Ma l'autocertificazione... Forse non mi sia spiegato. Ho capito. Ha capito che voglio rire. Ho capito, ho capito. Ma l'autocertificazione non è che se lei può uscire ogni momento. L'autocertificazione serve solo in caso, ma alla base. Bisogna rimanere chiusi dentro per far morire il virus. Il virus deve morire. Ho capito, ho capito. Ma un virus che io stai dentro, il muore che si rispia, a me l'uocco può rire, lo stai dentro e mi muore. Muore perché non si attacca alle cellule. Speriamo la madonna che mora, dottor. Speriamo la madonna che mora. Però non è con l'autocertificazione che mora. Ha capito che voglio rire. E appunto, appunto. E appunto che appunto. Chi, chi? Allora, signor Loria, l'autocertificazione non va... Non è che va approfittato. Non è che uno... Solo perché c'è l'autocertificazione deve andare in giro. Non bisogna andare in giro perché il virus... Lei lo sa di che cosa si... Il virus di che cosa si nutre. Lei lo sa. Che cazzo ne sa che mangia cartaglie? Che ne sa che mangia il suo fix? Il virus si nutre delle cellule, quindi? Meno esseri umani ci stanno in giro, quindi uno deve rimanere dentro casa. Ma io sto alla casa, in casa, io ho un pestonato l'uocco, con una casa di pavetta, io ho un pavettato. No, lei è ucciso. Con mia moglie, che tutto io, pure ancora non ho detto che amo, ha capito che voglio rire? Ma non ti riabbracciava. Però se uno tiene un urgenzamento di una cosa che deve fare, fa tutte le certificazioni, vado a fare apposta, ha capito che voglio rire, dottor? Sì. Io per evitare un nipote, una mattina a cazzo mi vai scampata, ha capito che voglio rire? Ho capito. Ma ci chiamate voi, posso ria, e ci riuscite con me a rimborsare i soldi. O armo una guerra io, che va bene, riuscite voi. Oddio, 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 oddio. Modificatela a mano adesso, no? Posso telefonare io per farvi rinborsare le fotocopie. Modificatela a mano, appena. Modificatela a mano, che ha capace di carabinieri che voi avete sotto mano messo l'autocertificazione, vi metto le manette e vi porto in caserma. E poi chi ne viene a cacciare di là? Chi ne ne duna e gli soldi che stiamo manco faticando per pagare l'avvocato, per cerire avvocato, viene mettere a porre dalla caserma. Capite che voglio rire? Vedete se ci potete chiamare per piacere, Caccia mogliema che sta chiamando. Caccia mogliema che... Ma... Ma... Si capite? Ma... Sì, un'altra volta ha cominciato a mesca a capitare. Buonanotte. Scusate, sentate come crede. E che avevo crede lo signore. Arrivederci. sentate come crede. sentate come crede. Scusate, sentate come crede.